buongiorno a tutti amici rossoneri allora da oggi partiremo con una serie di video dove vi andremo ad informare su tutte le notizie che riguarderanno il mondo rossonero quindi calcio mercato prepartita formazioni probabili e tante altre cose quindi sul nostro sito trovate tutto anzi vi informo che ci saranno delle tantissime novità e seguite il canale youtube di ac milan inside per essere sempre aggiornati per quanto riguarda tutte le notizie sul mondo mira allora in questo video vi parlerò del problema infortuni che finalmente piano piano si sta andando a risolvere ricordiamo che il reparto più colpito è stato quello difensivo infatti al momento giochiamo ancora con gab e kia da inizi di gennaio che stanno facendo gli straordinari perché purtroppo non ci sono ricambi per poter rifiatare questi due calciatori i calciatori al momento infortunati sono sempre gli stessi ciao tomori e calulu il prossimo al rientro il prima possibile sarà il tedesco infatti settimana prossima dovrebbe iniziare ad allenarsi con il resto del gruppo e poter scendere in campo si ipotizza una sua presenza nella gara di andata di giovedì a san siro contro i francesi del ren per il playoff d'europa league ma ovviamente piolico nello suo staff medico e tecnico andranno con i piedi di piombo e non si andrà a forzare la situazione quindi più probabile vedere ciao in corso partita sabato a monza in campionato o addirittura nella gara di ritorno in francia contro i francesi del ren perché non si vuole affrettare le cose per avere una ricaduta sul calciatore quindi perdono nuovamente ricordiamo che ciao si è infortunato a novembre durante la partita di champions a san siro contro il borussia dortmund e la diagnosi fu di due tre mesi e siamo a febbraio abbiamo perso il calciatore per tanto tempo e quindi ora il rientro sarà graduale per quanto riguarda invece tomori e calurus se ne riparla a fine febbraio inizi marzo quindi probabilmente i due torneranno a disposizione di stefano pioli per essere impiegati dal primo minuto a metà marzo comunque ciao è vicinissimo al rientro